Le prime impressioni sono ottime, come sempre, comunque del resto i primi giorni. Il gruppo è un buonissimo gruppo. Ieri abbiamo fatto una serata per conoscerci tutti quanti, è andata molto bene. Oggi abbiamo cominciato, è stato un po' duro perché comunque eravamo fermi da un bel po'. Comunque siamo pronti per affrontare questa bella avventura che si appresta ad iniziare. Dove può arrivare Milano secondo te? Dobbiamo giocarci bene le nostre carte con le squadre come noi, perché secondo me ce ne sono 3-4 che sono più forti. Non dico con questo che noi arriviamo quinti, perché arrivare quinti secondo me sarebbe una mezza impresa. Però dobbiamo essere bravi a giocarcela con le squadre che sono al nostro livello. Poi più ne vinciamo e più saremo in alto in classifica.